E' bello e simpatico il nostro scudo ricevuto un dono con tanto di belle piocche diciamo è dono di amici dono del loro bimbo nato da pochissimo Cesare per soprattutto il progetto autismo del centraquarone è bello avere tanti amici che ci diano accompagnamento che ci diano aiuto gli amici degli amici hanno collaborato a questo dono e quindi davvero siamo contenti e i ragazzi hanno già fatto viaggio inaugurale brevissimo dal posteggio sotto gli alberi ben 10 metri no neanche però lo useranno poi servirà per tutte le necessità di questi ragazzi buona giornata a tutti benvengano coloro che vogliono vedere da vicino le nostre attività e comprendono anche quello che può servire ai nostri ragazzi